Forti precipitazioni hanno interessato tutta la provincia di Bergamo dalla serata di martedì 4 novembre e per tutta la giornata di mercoledì 5 novembre. Dalle prime ore di oggi il fiume Serio è sorvegliato speciale in diversi punti della valle seriana, da parte dei gruppi di protezione civile e locali. La situazione è sotto controllo, il meteo dovrebbe migliorare a partire da venerdì. L'allerta meteo era stata diramata qualche giorno fa anche da Regione Lombardia, che ha emesso un avviso di moderata criticità per rischio idraulico, idrogeologico e forte vento. Mercoledì 5 novembre persistono precipitazioni moderate e localmente forti su Alpi e Prealpi, moderate su Appennino, da deboli a moderate sul resto della Regione. La Regione Lombardia ha pertanto invitato i presidi territoriali a prestare attenzione e un'adeguata attività di sorveglianza e possibili effetti di esondazioni di corsi d'acqua. Le precipitazioni andranno indebolendosi già da domani, giovedì 6 novembre. Per venerdì pomeriggio sono previste schiarite che dovrebbero garantire tempo stabile nella giornata di sabato.